È bello avere un alleato come Marte, cari Capricorno, che è un pianeta che fa parte proprio della vostra natura astrologica, perché Marte vi rende ancora più fattivi, più energici, più decisi. Potete portare a casa soddisfazioni di peso specifico, non indifferente, grazie soprattutto al vostro spirito di iniziativa. La fortuna non è che latiti del tutto, ma non è nemmeno che sia sempre lì dietro l'angolo, pronta a tendervi la mano. Quindi bisogna proprio che vi muoviate in prima persona, soprattutto mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà al vostro fianco, decisa ad aiutarvi a realizzare qualsiasi cosa, proprio per portare a termine lavori importanti per entrare in quegli ambienti che vi ingolosiscono, per finalizzare progetti che potrebbero anche portarvi del denaro. E dal punto di vista amoroso suino siete giocherelloni sfacciati, bravi, bravi, bravi. Grazie a tutti.